eccoci buonasera iniziamo il webinar benvenuti vediamo oggi un altro argomento come si legge un grafico a barre quindi come leggere un grafico a barre per determinare la presenza di liquida al supporto quindi vedremo i dettagli dei grafici e come utilizzarli per stabilire per sfruttare un margine previsionale allora vediamo le slide preparato e poi farò qualche esempio alla lavagna allora se non avete partecipato alle sessioni precedenti potete consultare i video gli articoli e le slide dei due webinar precedenti a questo indirizzo del blog ok quindi far dna.com slash formazione slash corso di trading e trovate i due video con i relativi articoli e slide che abbiamo registrato in precedenza così potete sono le registrazioni dei video così potete collegare quello che trattiamo oggi con quello che abbiamo trattato precedentemente avere un quadro della situazione ok un quadro chiaro sì di ogni video alessandro vedo che mi scrivi mi chiedi se ci sarà la registrazione come per i video precedenti ci sarà anche il video chiaramente di questa sessione come delle prossime allora chi sono il mio scopo lo spiego sempre in sintesi per chi non ha partecipato fin dall'inizio io mi chiamo Stefano Mastria e mi occupo di trading sul mercato dei cambi la mia società natural love trading si occupa di gestire una comunità di studenti e trader con lo scopo di migliorare il business del trading attraverso la messa a punto di metodi asset finanziari innovativi condivido queste informazioni quindi per attirare potenziali candidati nella nostra community che si chiama appunto forest trading university over traders è tutto spiegato nel sito forest trading university punto org allora vediamo i primi argomenti previsionali nel corso delle due sessioni precedenti ho spiegato come funziona il business del trading quindi i limiti e vantaggi che possiamo sfruttare quindi che cosa si può fare e entro quali limiti e poi vi ho spiegato come funziona un piano di training il piano di training è il mezzo che noi utilizziamo per mettere in opera una gestione e quindi tirar fuori un profitto o una perdita ok in base a come questo lavoro viene fatto tiriamo fuori un dato questo lavoro quindi nella messa in opera di questo lavoro per un anno lo andiamo a chiamare gestione quindi una gestione di un anno porta ad un risultato per mettere in opera una gestione abbiamo bisogno di una serie di competenze di tipo gestionale e di tipo previsionale quindi nel corso delle sessioni precedenti ho spiegato il funzionamento del business del trading e quindi il funzionamento di un piano è chiaro che è necessario acquisire competenze di tipo previsionale e di tipo gestionale per mettere in opera una gestione quindi adesso iniziamo a vedere le basi previsionali settimana prossima vedremo ancora un argomento previsionale finché arriveremo agli argomenti gestionali e a tutto quello che serve per avere un quadro chiaro di come funziona l'attività e di come deve essere messa in opera per tirare fuori un risultato ok allora il codice delle barri di prezzo esistono diversi tipi di barre nei grafici ma utilizziamo utilizzeremo per questo per questa sessione solo due tipi per come riferimento quindi le barre di trend e le barre di collasso che sono le due barre principali che a noi servono per comprendere se un mercato ha un potenziale o non ha un potenziale quindi la barra di trend indica la presenza di liquidità a supporto mentre la barra di collasso indica la mancanza di liquidità a supporto e tra un attimo alla lavagna vi spiegherò che cosa significa la struttura di una tendenza a livelli di prezzo quindi vedremo un attimo le singole barre che cosa significa trovare liquidità a supporto e poi vedremo la struttura di una tendenza e livelli di prezzo sono tre argomenti barra di prezzo struttura del trend e livelli che servono per mettere in atto una prima analisi quindi avere un quadro chiaro da un punto di vista previsionale i mercati finanziari formano le tendenze sempre allo questo modulo da sempre quindi vedremo come sfruttare un margine previsionale studiando i comportamenti fisiologici io vi ho spiegato nel primo webinar che noi utilizziamo ricorrenze a basso rischio per trarre un profitto bene alcune di queste ricorrenze le andiamo a prendere da quei comportamenti che sono fisiologici che io chiamo regole naturali dei mercati finanziari che sono oggetto nella prossima sessione e che sono utilissimi per trovare le ricorrenze che sono a basso rischio che ci consentono di realizzare dei profitti inoltre siamo in grado di rilevare dei punti di riferimento detti livelli tondi oppure supporti a resistenze ok ognuno li chiama a modo proprio per determinare il punto di partenza di un trend o determinare il target del trend ok vedremo anche questo adesso la lavagna quindi adesso apro la lavagna vi faccio degli esempi pratici per spiegarvi il codice delle barre di prezzo la struttura del trend dei trend e i livelli di prezzo e capire come tutto questo può essere unito insieme per produrre un'analisi poi vi spiegherò velocemente gli schemi di prezzo e quanto sono importanti per trarre un margine previsionale bene vediamo un attimo la lavagna ok quindi è una sessione che non è solo slide questa volta abbiamo un po di esempi allora prima di tutto dobbiamo comprendere come un grafico a barre funziona un grafico a barre sviluppa delle barre appunto che indicano un pezzo di apertura e un pezzo di chiusura la barra di trend ha la caratteristica di aprire e chiudere sui propri limiti quindi apre e chiude in prossimità del proprio massimo in un trend realgista ok mentre la barra di collasso che può essere chiamata anche pin bar io la chiamo barra di collasso indica apre e chiude avendo chiusura apertura e chiusura su un lato ok quindi la barra di trend indica la mancanza di liquidità supporto la barra di collasso indica la presenza che cosa significa questo bisogna fare un attimo spiegare un attimo come una tendenza si manifesta si struttura a mercato che cosa sviluppa una tendenza una tendenza viene sviluppata viene sviluppata in base a cosa fanno i large trader quindi sono i large trader che spostano il prezzo oltre determinati punti per trovare liquidità supporto se trovano liquidità supporto noi vediamo una barra noi vediamo una barra di trend che chiude oltre un determinato ostacolo un determinato livello tondo che adesso vedremo bene che cos'è ok quando vediamo queste chiusure oltre un livello tondo sappiamo che il mercato tende a continuare quindi tende a sviluppare altre barre di trend ok se invece la liquidità supporto non c'è noi oltre questo ostacolo vediamo una barra di collasso quindi in buona sostanza e con estrema semplicità se noi vogliamo capire se un contesto di mercato ha un potenziale o non è un potenziale di continuazione osserviamo il livello tondo che troviamo nelle vicinanze adesso vi spiego bene come individuarlo poi rileviamo il comportamento della barra quando abbiamo una barra che indica una chiusura oltre un punto che è significativo sappiamo che c'è un margine previsionale da sfruttare quindi ci può essere una continuazione quando invece abbiamo un collasso sappiamo che quella barra indica che non c'è una continuazione perché avviene questo? avviene questo perché i large trader per formare una tendenza spostano volontariamente il prezzo oltre questi punti ok? oltre questi punti chiave quindi che io chiamo livelli tondi veramente non solo io insomma questa è una cosa che io ho studiato sul libro di John Murphy qui anche nel blog c'è un articolo e l'indicazione anche del numero di pagina dove John Murphy spiega questa cosa quindi i livelli tondi i large trader spostano il prezzo oltre i livelli tondi per trovare liquida al supporto lo spostano per trovare altri large trader interessati a supportare lo sviluppo di quella tendenza se trovano un supporto noi vediamo una chiusura oltre questo punto e quindi sappiamo che questo evento indica un potenziale da sfruttare quando invece non ne trovano nel corso della giornata vediamo che il prezzo si è spostato oltre questo punto ma poi a fine giornata il prezzo chiude sotto e quindi questo comportamento semplicemente sta a indicare che i large trader hanno provato a trovare liquida al supporto non ci sono riusciti e il mercato quindi ha collassato ok? rilevando al mercato queste piccole differenze siamo in grado di stabilire se un contesto ha un potenziale che siamo in grado di sfruttare per seguire lo sviluppo di una tendenza e quindi trarre un profitto dalla variazione di mercato che ne consegue oppure trovare un contesto di mercato che non ha un potenziale e chiaramente evitare di operare laddove non c'è un potenziale ok? e questo ho detto in parole molto povere vediamo di unire questa informazione con la struttura del trend e poi i livelli di prezzo i mercati finanziari sviluppano tendenze da sempre nello stesso modo quindi noi vediamo un trend che sviluppa questo genere di struttura questa struttura l'ho definita in questo modo e quindi ha quattro fasi la prima fase che è il segmento di trend la seconda fase che è il collasso in trend che indica la fine di questo segmento di trend poi abbiamo la fase correttiva che è questa qui e poi il collasso incontro trend le quattro fasi terminano quindi con un ciclo questo ciclo una volta che è terminato se misura prese di profitto ridotte in pratica anticipa lo sviluppo di una nuova tendenza le prese di profitto se non sapete che cosa sono andate a studiare la teoria di Do sempre nel libro di John Murphy o comunque se volete anche nel blog c'è un articolo dove spiego questo le prese di profitto come spiega la teoria di Do quando sono ento l'area del 33% praticamente stanno a indicare che il contesto di mercato ha un potenziale di fatti noi sappiamo che la barra di trend ha questa caratteristica sappiamo che apre apre e chiude in prossimità del proprio massimo in un trend rialzista e in prossimità del proprio minimo è un trend ribassista chiaramente al contrario ma sappiamo che prima di sviluppare una tendenza configura sempre prese di profitto ridotte quindi ci indica la barra di trend la stessa informazione che ci indica una tendenza più grande che prima di svilupparsi configura prima prese di profitto ridotte quindi noi se vogliamo sfruttare un margine previsionale quando leggiamo un grafico e abbiamo la barra di trend dopo aver ottenuto la barra di trend basta misurare le prese di profitto della barra nuova anche se attualmente non è neanche superato il massimo perché in base al suo comportamento che assume prima siamo in grado di capire se c'è un potenziale o no ricordate che io quando dico se c'è un potenziale bisogna vedere se poi quel potenziale si sviluppa però in presenza di un potenziale quando quel potenziale si sviluppa correttamente noi riusciamo chiaramente a trarre un vantaggio al contrario quando la barra si comporta in questo modo e il potenziale non si sviluppa la barra resta ferma resta così la stragrande maggioranza delle volte e quindi questo non mi espone neanche a un rischio la cosa va trattata chiaramente per essere sfruttata nell'ambito di un piano ma per il momento noi stiamo utilizzando queste informazioni unicamente a scopo previsionale per conoscere il mercato ricordatevi utilizziamo queste informazioni per conoscere il mercato e capire come funziona è cosa ben diversa utilizzare queste informazioni per trarre un profitto che è una cosa che noi vedremo ma per il momento stiamo vedendo solo la parte previsionale quindi la barra di trend se sappiamo come si comporta siamo in grado anche di anticipare lo sviluppo che è in grado di produrre un certo numero di volte quindi sappiamo che presenta pesi di profitto ridotte che andiamo a misurare rispetto alla barra precedente quindi se abbiamo pesi di profitto dentro del 33% della barra di trend precedente che è più o meno qui sappiamo che la nuova barra indica un potenziale importante quindi indica che c'è il potenziale per sviluppare una nuova barra di trend questa cosa vale sia per la singola barra sia per le tendenze più ampie quindi interi segmenti di trend quando dico segmento di trend mi riferisco a 2-3 barre di trend che lavorano insieme finché giungono a un collasso e quindi abbiamo il completamento del segmento di trend e arriva la fase correttiva misuriamo le pesi di profitto nella fase correttiva ok misuriamo le pesi di profitto nella fase correttiva se le pesi di profitto sono ridotte c'è il potenziale per una ripresa del trend quindi avere altre 2-3 barre di trend che chiaramente sviluppano variazioni di mercato e questo c'è utile ai fini dell'attività aggiungiamo un'altra informazione che è costituita appunto dei livelli di prezzo chiaramente questi sono argomenti che richiedono un certo approfondimento ma io vi sto sintetizzando per farvi capire quello che si può fare con l'attività i livelli di prezzo noi andiamo a prendere sui grafici e hanno un'origine storica e anche un'origine recente l'origine storica la prendiamo nei grafici mezzili, settimanali, giornalieri per capire dove il mercato storicamente ha reagito e solitamente dei livelli che hanno reagito anche decenni prima tendono ad avere un riscontro anche ai giorni nostri questo indica quanto il mercato per certi versi è comunque manipolato perché è un riferimento che noi utilizziamo oggi e che magari dieci anni fa venti anni fa ha avuto lo stesso ruolo c'è un motivo insomma ecco ci possono essere anche motivi di natura psicologica insomma ma comunque sicuramente un'area che ha un riscontro affidabile nel tempo io continuo a utilizzare quel riscontro affidabile e poi verifico se quel riscontro quel livello ha un'importanza ancora oggi come faccio? lo riesco a fare studiando le barre recenti quindi prima trovo i livelli tondi che hanno un'importanza storica e come livello tondo io mi riferisco ai livelli ogni mille pip cento pip cinquanta pip e dieci pip quindi per esempio sull'euro dollaro un livello tondo che ha sempre avuto una grande importanza è 1,30 già so che quando il prezzo arriva intorno a 1,30 tende a sviluppare qualcosa di importante poi vado all'aspetto il comportamento recente le ultime barre trimestrali mensili settimanali per capire laddove il mercato tende a reagire in questo momento e quindi conosco 1,30 che ha una origine storica vedo che il mercato sul mensile termina un po' prima e collassa bene significa che il punto di reazione in questo momento attorno a me 30 lo devo correggere a 1,29 magari e così ho trovato il mio livello tondo il mio livello tondo che ha un'importanza storica in questo momento 1,29 lo correggo e utilizzo questo come punto di riferimento so che in questo momento i large trader se vogliono trovare liquida a supporto devono spostare il prezzo oltre 1,29 quindi il mercato ha sviluppato una tendenza che indicava la presenza di liquida a supporto il mercato è arrivato su questo ostacolo che conosciamo si chiama 1,29 il mercato ha collassato il collasso indica appunto l'ostacolo quindi prima riconosciamo che c'è un ostacolo poi gli diamo un nome conoscendo questo ostacolo sappiamo che il mercato lavorerà sotto questo punto per un certo periodo fino a che fino a che verrà spostato il prezzo oltre 1,29 per trovare liquida a supporto se riesco a guadagnare una chiusura so che da quella chiusura potrà nascere un segmento di trend con tutti i vantaggi connessi ok e quindi abbiamo il comportamento delle singole barre il comportamento delle tendenze e i livelli di prezzo uniamo tutto questo insieme abbiamo utilizzato in questo momento 1,29 come target cioè il mercato è arrivato su 1,29 su 1,30 abbiamo corretto il livello 1,29 e adesso abbiamo saputo che oltre 1,29 era il punto oltre il quale valutare la prossima chiusura per sfruttare un margine previsionale e in questo modo riusciamo a anticipare lo sviluppo di una tendenza nel momento in cui si sviluppa una tendenza noi svolgiamo lo stesso ruolo sappiamo che il prossimo livello tondo aspettate che cancello queste cose qui per fare ad esempio sappiamo che il prossimo livello tondo noto sarà faccio un esempio 1,35 ok 1,35 il mercato quindi l'ultima volta ha reagito in area 1,35 io aspetto di vedere come il segmento si completa nuovamente completa un po' prima quindi io cosa faccio collassa un po' prima quindi io correggo il livello quel livello invece di chiamarsi 1,35 si chiamerà 1,34 a quel punto ci saranno prese di profitto che andrò a misurare che se andranno a configurarsi nell'ambito del 33% chiaramente questo mi aiuterà a sfruttare nuovamente un margine previsionale e il margine previsionale l'ho sfruttato qui per anticipare lo sviluppo del trend e quindi anticipare questa variazione e adesso lo sfrutterò qui per fare la stessa identica cosa chiaramente sfrutto margine previsionale anche qui misurando le prese di profitto perché se restano ridotte so che è possibile avere uno sviluppo futuro di questa tendenza se invece il mercato crolla sotto il 33% e sotto il 50% che è diciamo il margine estremo per valutare la ripesa di una tendenza so come spiega la teoria di Do che quando il mercato fa questo abbiamo a che fare con un'inversione nella tendenza e non c'è più un margine previsionale per sfruttare la continuazione ok allora come potete immaginare come già vi ho detto anche questi argomenti andrebbero approfonditi no c'è tanto da dire tanto tanti esercizi da fare ma questo vi serve per darvi delle indicazioni per studiare e per approfondire questi temi nel blog voi trovate molto materiale che io ho pubblicato negli anni e continuerò a pubblicarlo se voi andate nella sezione del blog forestdna.com formazione trovate le regole naturali dei mercati finanziari io adesso non ho il blus come nasce una tendenza e trovate l'esempio della barra di trend della barra di collasso come nasce la tendenza dove sfruttare in margine previsionale tutto questo ok va bene andiamo avanti tutto questo quindi barre tendenze e livelli di prezzo ci aiuta per sfruttare un margine previsionale che cosa possiamo aggiungere a tutto questo possiamo aggiungere gli schemi di prezzo gli schemi di prezzo servono per avere un margine in più adesso pulisco un attimo questo esempio e facciamo un altro disegno con lo schema solitamente questi argomenti è utile spiegarli alla lavagna poi è utile spiegarli con i grafici e avremo occasione poi di fare anche questo ok allora facciamo un esempio ipotizziamo di avere un contesto che parte con un determinato tipo di congestione che adesso vi spiego che cos'è la congestione è un insieme di barre che lavora lateralmente io vedo sul settimanale questo genere di contesto quindi dopo una tendenza il mercato lavora lateralmente sviluppa due tre barre settimanali laterali ok questo è il settimanale questo serve per spiegarvi come funzionano gli schemi di pezzo e come possiamo calarli nell'analisi questo vi dà un margine previsionale molto importante la settimanale e questo è il giornaliero ok quindi abbiamo la nostra congestione nel momento in cui noi vediamo due tre barre settimanali laterali di conseguenza abbiamo sul giornaliero una congestione di oltre dieci barre la congestione è un insieme di barre quindi mentre abbiamo analizzato il comportamento delle singole barre barra di collasso e barra di trend sapendo a che cosa portano sappiamo anche che un insieme di barre di questo tipo è in grado di portare a determinati sviluppi che adesso vedremo quando rileviamo una congestione tracciamo sempre il livello di confine che andiamo sempre a rilevare tondo e quindi ipotizziamo di aver rilevato un livello pari a 1,22 ok benissimo adesso rispetto anche alle cose che abbiamo visto sappiamo che nel momento in cui il mercato sviluppa dei collassi chiudendo poi all'interno dell'area di congestione quindi sotto il livello i collassi indicano che i larger trader hanno provato a trovare liquidità a supporto e non ne hanno provata quindi noi nel momento in cui vediamo i collassi e il mercato continua a lavorare sotto questo livello sappiamo che hanno tentato di trovare liquidità a supporto ma non ci sono riusciti quindi noi continuiamo ad attendere non abbiamo fretta nel momento in cui invece riusciamo a guadagnare una chiusura oltre 1,22 sappiamo che questo evento indica un cambio di equilibrio sappiamo che i larger trader hanno trovato liquidità a supporto ci hanno provato prima e a fine giornata dove noi vautiamo la chiusura siamo in grado di apprezzare il risultato e quindi sappiamo che è stata trovata liquidità a supporto nel momento in cui noi sappiamo di aver trovato liquidità a supporto oltre a una congestione con queste caratteristiche sappiamo di poter sfruttare un margine di medio e lungo termine un certo numero di volte ok? medio e lungo termine significa una tendenza che si svilupperà nel corso della settimana e oltre la settimana quindi una variazione piuttosto ampia la tendenza quindi di medio termine è che comportamento può avere può avere questo tipo di comportamento quindi si sviluppa un segmento di trend poi abbiamo prese di profitto che andiamo a misurare che se ridotte tendono a portare a una nuova continuazione ok? la congestione di oltre 10 bar giornaliere è in grado di portare a questo tipo di risultato tutte le volte? no non tutte le volte perché noi sappiamo che gli schemi di prezzo questo vale per tutti gli schemi di prezzo sono in grado di produrre delle possibilità quindi un ventaglio di possibilità alcune di queste possibilità sono sempre favorevoli ai fini del nostro piano altre possibilità sono sempre sfavorevoli ai fini del nostro piano quindi noi per completare il lavoro abbiamo bisogno della parte gestionale del piano perché la parte gestionale ci consente di garantirci in questo modo una spesa limitata quando lo schema di prezzo fallisce quando invece lo schema di prezzo produce una reazione pienamente efficace pienamente favorevole ci garantiamo un profitto quindi questa è la prima parte del lavoro il lavoro previsionale la seconda parte si svolge con le competenze gestionali ok? in questo modo noi non ci preoccupiamo mai di svolgere un lavoro perfetto da un punto di vista previsionale perché noi per lavoro perfetto dal punto di vista previsionale non siamo in grado di produrlo ok? perché c'è un limite a quanto siamo in grado di anticipare il mercato non siamo in grado non saremo mai in grado di anticipare con successo il mercato tutte le volte no? perché non abbiamo la palla di vetro e quindi è naturale questo quindi conosciamo i nostri limiti previsionali conosciamo che cosa il mercato è in grado di darci e come possiamo sfruttarlo ecco è così che deve essere pianificata è così che deve essere pianificata l'attività in modo chiaro andando a studiare quelle ricorrenze a basso rischio che sono in grado di darci una variazione di mercato sufficientemente ampia e poi studiamo le competenze gestionali per garantirci piccole spese e profitti elevati tutte le volte in cui è possibile ok? e così si costruisce un asset che diventa stabile nel tempo e ci dà quei profitti che a noi interessano c'è una strada c'è un lavoro da fare che è chiaramente disposto a farlo fa un buon lavoro che poi dà risultati nel corso degli anni ok? bene il discorso è questo adesso vi ho sintetizzato tutto quello che serve come base previsionale per compendere l'attività settimana prossima noi vedremo ecco qua come tornate alle slide settimana prossima noi vedremo un altro argomento sempre previsionale che riguarda le regole naturali dei mercati finanziari cioè noi andremo a lavorare andremo andrò a spiegarvi una serie di ricorrenze a basso rischio che noi possiamo sfruttare però ce n'è un'altra una che avevo previsto di spiegarvi che non vi ho spiegato ecco mi sono infatti per questo ero un attimo interdetto perché mi mancava qualcosa e vi spiego quest'ultima cosa e poi andiamo avanti perché riguardo le tendenze noi possiamo sfruttare un margine previsionale ecco che volevo spiegarvelo in questi termini perché ve l'ho detto ma non ve l'ho detto bene come avrei voluto quando studiamo la tendenza sappiamo che si sviluppa il segmento di tendenza qui vi disegno la cosa in questo modo diciamo a linee e qui ve lo disegno a barre qui abbiamo un segmento di trend il mercato collassa e abbiamo prese di profitto vi ho spiegato che se le prese di profitto sono ridotte il mercato tende a sviluppare una continuazione così come spiega la teoria di ridotto ok qui abbiamo quindi la fase correttiva di conseguenza che se è breve c'è una continuazione bene noi quando operiamo noi abbiamo nel corso della tendenza una fase attiva e una fase passiva la fase attiva è questa quindi la fase in cui si lavora alla tendenza qui si trae profitto qui non si lavora per trarre profitto qui si lavora per anticipare il mercato quindi io devo misurare l'anzianità del mio segmento di trend io so che al mercato i segmenti di trend formati appunto da queste barre di trend che vi ho spiegato si formano con due tre quattro barre è molto raro avere segmenti di trend di cinque barre quindi sappiamo che per esempio su una coppia come l'euro dollaro la maggior parte dei segmenti di trend si formano con due tre barre difficile andare oltre quindi sfrutto margine previsionale tra una barra di un'altra sapendo il discorso delle prese di profitto so che la mia barra di trend chiude in prossimità del proprio massimo quindi sfrutterò chiaramente tutta la tendenza quando sono all'interno di una barra so anche che il segmento di trend sulla coppia come l'euro dollaro che è il cambio principale tende a sviluppare segmenti di non più di due tre barre quindi anticipo in questo modo la fase di esaurimento quindi in buona sostanza si lavora per trarre un profitto e conosciamo i limiti della tendenza nel momento in cui chiude il ciclo di mercato e inizia una fase correttiva noi studiamo tutta questa parte perché lo schema di prezzo si sviluppa in questo ambito e in questo ambito studiando adeguatamente questa fase anche con un po' di pazienza perché durante la fase attiva si lavora e si guadagna qui invece si attende si studia e si attende si attende a un indizio per anticipare lo sviluppo del nuovo trend ok ho spiegato nel primo webinar lo ridico adesso questa è un'attività che mira a realizzare un profitto pianificando pianificando molto quindi lavoriamo molto di più in fase di pianificazione e meno in fase operativa con meno opportunità perché le opportunità ogni opportunità espone a un rischio quindi pianifichiamo prima molto di più e con maggiore precisione per lavorare poi a mercato reale con meno opportunità e quindi con un rischio più basso e con un livello di complessità estremamente ridotto ok bene questo vi volevo spiegare spero sia chiaro io vi ringrazio per l'attenzione e per la dedizione perché siete sempre parichi a questo webinar a questi webinar che abbiamo organizzato durante i prossimi webinar noi andremo avanti con gli argomenti se avete domande e comunque se avrete domande anche chi sentirà poi il video le potete porre direttamente nelle pagine del blog dove pubblico poi il video e l'articolo collegato a ogni webinar ok durante il prossimo webinar che ci sarà il 12 di febbraio domani apriremo le iscrizioni tratteremo le regole naturali dei mercati finanziari quindi quelle ricorrenze a basso rischio qualcuna abbiamo cominciato a vederla adesso le metteremo in chiaro ancora di più durante il prossimo webinar e così avrete di fronte una serie di possibilità che possono essere utilizzate nell'ambito di un piano per anticipare il mercato per avere una reazione di mercato quindi un margine previsionale di breve e medio termine oppure di medio e lungo termine o di lunghissimo termine in base al contesto siamo in grado di anticipare un determinato una determinata variazione più o meno ampia e in base a quello che il mercato è in grado di dare chiaramente noi ci adattiamo e quindi definiamo una gestione che è sempre più precisa rispetto a quello che il mercato effettivamente può dare settimana prossima no settimana prossima durante il prossimo webinar terrò aperti anche i grafici quindi vi spiegherò prima le regole naturali dei mercati finanziari poi apriremo i grafici compro real time e vi farò vedere un po' di cose un po' di eventi e quindi per farvi capire un po' come come funziona tutto questo ok? bene buon lavoro e buona serata a tutti a presto grazie a tutti grazie a tutti